Ciao ragazzi, dovevo trovare un modo per far sì che avesse la mia vicinanza in questo momento molto brutto. Come primo compito siamo andati molto molto bene, la risposta è stata da gran parte di voi e sono stati dei bellissimi lavori. Cuore bianco blu, batterà di più, forza e virtù. Un bianco blu, cuore bianco blu, batterà di più, forza e virtù. Un bianco blu. Il secondo compito si basa sul palleggio, tra 3-4 giorni sarà un altro esercizio e così via. Comunque sono tutti esercizi e principi di allenamento che noi abbiamo usato per tutto l'anno. Quindi niente di nuovo, ma solo tenere allenata la mente e il fisico. Non sprecherai un'occasione per farci sognare Siamo qui per te, la nostra passione sei tu E se segnerai sarà una grande festa E sentirai il nostro corso del cuore bianco blu Sorprenderà la squadra che portiamo nel cuore Segui per noi la nostra passione sei tu E se giocherai saremo tutti in festa Regalerai la vittoria a tutti noi Cuore bianco blu Cuore bianco blu Batterà di più Forza e virtù Bianco blu Cuore bianco blu Batterà di più Forza e virtù Forza e virtù Forza e virtù Bianco blu Forza e virtù In campo si sa Ci vuole coraggio Ci vuole coraggio Mettile più Che può Gli amore Tolle Porte e virtù Funde Bianco blu Bianco blu Cuore bianco blu Banderà di più Forza è più, bianco più Cuore bianco più, batterà di più Forza è più, bianco più Mi raccomando, fate allenamento Fate questi esercizi qua, ok? Occupate il vostro tempo, passatelo con la famiglia E ci vediamo al prossimo test Che sarà più o meno a metà settimana prossima, ok? Un bacio a tutti, ciao!